Ed ora parliamo degli anni settanta, perché quegli anni per noi sono stati veramente molto importanti per la nostra musica, per la nostra formazione musicale, perché in quegli anni sono nate le matrici del pop rock. E proprio in quel periodo scrissi una suite musicale che fece ascoltare subito Valerio Negrini, che è il fondatore dei VU, che è l'autore della maggior parte dei testi delle nostre canzoni. E questo applauso è tutto per lui. Bravo Valerio! E Valerio vi ringrazia! Allora lui ascoltò questo brano e decise di raccontare un suo sogno che aveva fatto proprio la notte precedente. Questo brano è tratto da un album per noi molto fortunato dal titolo Un po' del nostro tempo migliore. E il titolo di questo brano è Il tempo, una donna, la città! Il tempo, una donna, la città! Polvere, il vento nella valle, ci vola, finestre semi aperte, stridono sui muri silenzioso il sole già c'è. La vastità di strade sconosciute ai passi miei, che suonano indiscreti come chi violasse un mondo mai trovato. Sono un sincerely un po' di frutto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti